colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ehi ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono mazzi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli nell'arena war ragazzi questo glitch è veramente easy l'unica pecca giustamente è che dobbiamo duplicare veicoli e vendere i veicoli non è come quello che ci droppano i soldi però qui ne facciamo molti di più ragazzi allora i requisiti per fare questo glitch quali sono lgr h8 quante più lgr h8 abbiamo quanti più cloni faremo uno slam van ragazzi che deve essere vergine appena comprato come avete appena visto per ritorno a dire le lgr h8 io le consiglio ragazzi alcuni usano il faggio però solitamente ci si ritrova sempre con problemi alle vendite o altre cazzate e l'auto che vogliamo duplicare ragazzi che è una isi incubo allora fate bene attenzione adesso vi faccio vedere vedete è una isi incubo vabbè sta sotto comunque l'avete letto e eccola qui quindi noi ci dobbiamo ricordare questo ragazzi perché poi non mi venite a chiedere ah ma perché non mi viene perché non adesso vi vado a spiegare perché questo particolare è importante incubo o altre categorie di veicolo perché se faremo il passaggio diverso dall'auto che abbiamo il glitch non riuscirà allora quando saremo qui ragazzi dovremo fare la modifica incubo che è la stessa modifica che noi abbiamo sotto la nostra isi quindi andremo a fare la modifica incubo dobbiamo comprarla ragazzi quindi ci serviranno dei soldi per comprare il lo slam ban e per comprare la modifica vedete mi ha scalato i soldi ragazzi dopodiché una volta che siete qui se ancora nel menu andate nel menu sharp card ragazzi non è importante se lo apre o non lo apre a me qui nel video non lo apre però comunque se non ve lo apre fa lo stesso non è importante se ve lo apre meglio per voi perché siete più rapidi a fare il glitch cioè tanto è solo questo passaggio ragazzi lo dovete fare semplicemente una volta sola dubblicherete sette o nove auto e poi andrete a rifare questo passaggio per fare un successivo insomma però nove le fate in maniera massiva tutte defila ragazzi quindi il glitch è ottimo secondo me quindi come state vedendo ragazzi qui non mi sta caricando lo store però come ho già detto non è importante se ve lo carica fate per tornare indietro se non ve lo carica accettate il messaggio e tornate indietro quando siete qui tornate nella vostra nel vostro garage nel garage da dove siete partiti scendete dal veicolo e andate a selezionare l'auto che volete duplicare ragazzi in questo caso noi vogliamo duplicare la ic classic e la andiamo a scambiare con una lg rh8 ragazzi quindi una volta che l'avremo scambiata con una lg rh8 come in un glitch che c'era in precedenza quest'auto sarà una lg rh8 e l'altra diventerà una easy è semplice da capire ragazzi quindi salite su quest'auto qui quella che fisicamente che vedete che alla easy ma in realtà è la lg rh8 cambiate un particolare cambiate un non so un faro un freno una targa quello che cazzo vi fare dovete salvare l'auto per continuare il glitch vi dirigete nuovamente verso il pallino azzurro e fate lo scambio con un'altra rh8 adesso andremo a vedere quindi andremo nuovamente sul pallino azzurro e andremo a scambiarle nuovamente con una rh8 se noi abbiamo più veicoli qui all'interno dell'arena come vedete potete scarrellare no se noi abbiamo non so otto veicoli sette veicoli noi possiamo possiamo duplicare contemporaneamente con questo metodo tutti quanti veicoli anche se ora apparentemente quando voi andate a scambiare l'auto non appare però non vi preoccupate ragazzi perché il glitch funziona e l'auto apparirà in seguito come andremo a vedere però adesso andiamo a fare questo scambio andremo a scambiare nuovamente la is con la lg rh8 è una volta fatto questo passaggio fate conto che io adesso ne ho fatte 10 non le ho fatte 10 perché non mi va di sacrificare tutte le auto che ho con le ruote di bennis che sono all'interno di questo garage quindi come ho già detto fate conto che io ne avessi già fatte 8 9 10 quelle che siano una volta che avete fatto tutto e che avete salvato come adesso andremo a vedere dovete tornare ogni sacra volta sulla vostra auto vedete che le auto sono ancora così quindi voi tornate sulla vostra auto cambiate un altro particolare una volta che avete cambiato il particolare ritornate in ufficio in garage e cambiate sessione io adesso qui ragazzi giustamente sono costretto a farvelo vedere tutto il mio video però comunque sia avete capito il passaggio il passaggio è semplicissimo ragazzi l'unica cosa che dovete fare è entrare scambiare le auto entrare nella nell'officina con l'auto che è lì si cambiare la targa i fari o quello che sia e poi cambiare sessione come vedete ragazzi queste due elegi che avete visto qui sono le due elegi che io ho duplicato come ho già detto non ne ho duplicate altre perché non avevo bisogno però due le volevo duplicare per farvi vedere come si fa in piano massivo il glitch quindi a questo punto cambieremo di sessione è una volta cambiati sessione ritorneremo nell'arena se non abbiamo lo spawn nell'arena se lo abbiamo nell'arena buon per noi e ci troveremo le auto che che abbiamo duplicato ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro anche per se per me sta domenica un po confusionaria dopo i postumi del sabato sera ragazzi le baldorie di sabato sono un po nocive comunque sia spero di essermi spiegato abbastanza bene di avere spiegato abbastanza bene il glitch guardate il video fino alla fine mi raccomando ragazzi ricordatevi tutti i link della descrizione il team glitch ricordatevi tutto oggi c'ho poca voglia di stare lì a sbomballare la minchia e quindi vi faccio vedere solo il video però mi raccomando lasciate un bel like che mi supporta mi fa piacere quando mi lasciate i like mi fa piacere pure quando mi lasciate i dislike perché così almeno vedo a quante persone sto sul cazzo però mi fa più piacere quando mi lasciate i like detto questo ragazzi il video finisce qui il glitch è questo approfittatene anche se già ce ne sono tanti altri un saluto a tutti al prossimo video ciao belli ciao ciao